Amici Daily Basket, siamo qua con Matteo Malaventura, purtroppo rammaricato per la sconfitta, forse Casale è un po' sorpresa specialmente nel primo quarto dalla zona. Sì, complimenti a Trento, ha fatto una gran partita, ci hanno messo in difficoltà in tutto sul piano dell'intensità, delle palle vaganti, abbiamo avuto un primo quarto pessimo subendo 37 punti e lì ha condizionato la partita. Sì, anche perché siete riusciti a rifarvi sotto fino al meno cinque nel quarto, però forse poi lì si è fatta sentire anche la fatica di dover recuperare sin dall'inizio. Ma direi che non c'è stata mai partita perché sono sempre stati sopra, ogni volta che ci avvicinavamo ci ribandavano indietro, purtroppo non abbiamo giocato con la testa giusta. Coach Griccioli ha parlato di big shots da parte di Trento, quindi non c'era proprio nulla da fare di fronte a specialmente due americani, Elder e Jume. Sì, sono partiti alla grande mettendo tutti dei canestri anche difficili, però noi non abbiamo fatto poco per contrastarli. Va bene, grazie Matteo.